Persone aperte di mente, benvenute in questo nuovo video! Vi ricordate la scorsa volta che abbiamo fatto questa modalità qua di Ben 10? Oggi invece andremo a fare la storia e sarà più complicata forse Perché praticamente ci dirà tutta la storia, oddio non vedo niente Praticamente dovremo leggere cose strane Praticamente dice, apprenditrice, svegliati, dobbiamo del lavoro da fare Praticamente io sono l'apprenditrice in questo momento, come ti permetti? Per un piccolo ragazzo, dice che ha un grande pisello No, no, ha detto praticamente qualcosa del genere comunque Un big qualcosa, ma non so esattamente cosa intendesse Non capisco però perché ci sia sta bussola che mi sta seguendo Cioè, ah ho capito, mi sta dicendo dove andare Ok, come faccio ad andare da questa parte? Allora devo andare da questa parte, giusto? Sì, ok, perfetto E questo qua devo, devo, oh, devo incontrare queste persone Allora, praticamente, eh, benvenuti Sono io, Dunis Ah, ecco, vedete? Praticamente questo è il piccolino Praticamente vi racconto io come è andata Praticamente è il piccolino che ha creato il loro orologio più potente dell'universo E praticamente dice Eh, la mia apprenditrice Eh, loro hanno alternative E quindi Speriamo che il tempo sia bello Beh, dice Piacere di conoscerti Ben Tennyson al tuo servizio Uh, ma bene, sono contento che Ben Tennyson sia al mio servizio Ho sempre voluto questa cosa C'è il nonno che fa una faccia strana Lui dice Oh, quanto mi vorrei Quanto mi piace questo tipetto qua piccolino Praticamente ha la faccia un po' da pervertito I bambini sono un po' I bambini, quindi Ben e Gwen Poverini Eh, però c'è stato il signore Probabilmente lui ha captato le onde cerebrali di lui Vi spiego io come funziona la storia E praticamente cos'è che è successo Lui si è spaventato giustamente Perché non vuole che il nonno faccia cose Infatti, vedete, lui è già È già lì che è pronto a lanciarsi addosso, vedete Però praticamente lui si sta talmente tanto arrabbiando Che col cervello sta distruggendo tutta la struttura, no? E dice Attenzione Multiple Void Rifts Detected Che praticamente sono Eh, è stato captato un buco nero Aiuto, aiuto, aiuto Eh, devo, aspetta Devo andare anch'io però sopra Non è che posso andare solo due poverini No, no, lui resta con No, 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 no Non è riuscito a fare, raga Adesso gli fa robe Oddio, cosa fa? Gli fa robe No, no, no Deve distruggerlo Forza Sennò questo qua si butta addosso Poverino Aspetta, devo salvarlo io Che sono il suo appendista Stai fermo Praticamente dice Errore Praticamente sto qua Ha distrutto tutto Comunque questo buco nero Praticamente Ha fatto venire un errore E sto qua si spaventa Vedi, vedi Lo sta minacciando Dice Se non ti abbassi Praticamente sarà la tua fine E praticamente lui mi sta dicendo Ti prego, aiutami Mi sta implorando Tipo, no Tranquillo Caro mio Ti aiuto Guarda questo Tranquillo, tranquillo Ci sono io a proteggerti Lui non ti farà niente Io sono un apprendisto E praticamente Adesso utilizzerò le mie competenze Magiche ed informatiche Che solo tu mi hai insegnato Per Aiutarlo Guardate che questo qua Si sta avvicinando sempre di più Sta facendo versi Secondo me Ha intenzione di fare Si ho capito Però mi sto rompendo le pacce Nel senso Mi scusi eh Adesso dovete muovervi Perché se no Mi sto rompendo Cioè letteralmente Adesso Dai facciamo un taglio Allora Il signore mi ha dato questo Cioè lui Praticamente che ha creato l'OmniTrix Mi ha dato L'OmniTrix E quindi adesso mi posso trasformare Devo andare in giro A trovare tutte le cose Eh che figata Praticamente devo andare in giro A trovare Tutto e tutto Tutto il DNA Possibile Quindi devo uscire fuori E Dove che devo andare Da questa parte Mi dice Giusto Da questa parte No da questa parte Dove devo andare Che non ho capito Da questa parte Ok allora Praticamente si esce Da questa parte qua Probabilmente si deve andare Sulla scala Con il signor perverso Allora lei Allora lei non si deve permettere Sa Cioè veramente Se mi fa qualcosa Guardi che mi trasformo E le faccio Le faccio vedere io Praticamente Però dai Vedo che si è calmato Devo dire Si è calmato Quindi è buono Questa cosa Dovevo andare da questa parte Si esce Ok perfetto Buono E siamo usciti Adesso invece devo andare A trovare tutto il DNA Praticamente questo È un DNA E praticamente adesso Posso Ho trovato il DNA Di un tizio No giusto Tipo se io vado Ma che sta succedendo Raga Ok allora Praticamente Dice Ehi ragazzi Uscite Non cadete Ma che cosa vuoi Ma sei fuori di testa È notte pure Che brutto Non va bene la notte Signore Non va bene E mi scusi E dove devo andare Andare da questa parte Forza andiamo Chissà cosa suggerere In questa storia Perché io sinceramente Mi sono già rotto I tre quarti Vedremo se Insomma lui farà cose brutte Al signorino Che ha fatto L'orologio Oppure no Io spero di no Sinceramente Perché se fa cose brutte È terribile Ma poi ragazzi Io vi devo dire che Perché vi dico Che siete aperti di mente Perché praticamente Nel 2021 È importante essere aperti di mente Infatti è proprio Una cosa nostra Del nostro canale L'apertura mentale Se voi mi guardate Automaticamente Si sa che siete aperti di mente Se voi mi seguite Se voi dite Cioè se voi vi sentite Parte di questo gruppo State facendo parte Di un gruppo Di persone Apertissime di mente Questa cosa è perfetta È buonissima Perché è ovvio Che funzioni così Tanto qua vedo Non lo so Cioè E Sto qua mi vuole È peggio sto qua Raga Del nonno Sto qua Cioè praticamente Vuole farmi a me Cioè Capito È peggio Presidente dice Ehi Zomboso Si chiama così Cosa ride Sta ridendo proprio Oh Praticamente Mi serve Mi serve il dna Adesso ti rubo il dna Non posso Eh beh Devo poter fare Scusami Se no Che rottura di palle Fammi fare Allora L'omni tricks Praticamente Non si può trasformare Mi dice Vabbè Ok Non mi interessa Dove devo andare Per prendere Il dna Devo andare da questa Dai cosa devo fare Su Che mi sono già rotto Mi sto prendendo in effetti Di aver fatto sta roba Però dai Secondo me è divertente Perché ci metto Mi invento io la storia Secondo me è più divertente Perché praticamente Se no è una noia mortale Può seguire la storia Perché dicono Sti qua Cioè ma figurati Io che seguo una storia Ma assolutamente no Mai nella vita La storia me la creo Io perché è la cosa più bella Del mondo Creare storie E a me piace molto Creare storie Infatti sin da piccolo Non so se voi lo facevate Ma io da piccolo Scrivevo libri Perché mi piaceva Creare i miei mondi Unici E quindi Amo tutto ciò Tanto dove caspita Devo andare Io non si è capito Intanto eh Ma che caspita Ma raga ma non è Cioè non è normale Ma cioè come caspita Le fanno queste modalità Molto bello eh Perché per carità È complicatissima È molto Però insomma Cioè non dovrei rompermi le palle Poi il zomboso Mi dovrebbe attaccare Non dovrebbe stare qua Fermo come un chiodo Perché cioè nel senso Dai per favore Non fatemi leggere Oh ragazzi Mi sono trasformato Porca puzzarda Man Santa Marianna Eh Devo combattere zomboso Praticamente ho capito Praticamente Ha rubato Cioè vuole rubarmi il dna Il dna di 4x4 Sbemma Te faccio fuori Schifoso Non ti permettere Sai Ti massacro Ti Mamma mia Ti lancio le cose addosso Pobbo No Non ti permettere Porca miseria No raga Che cosa sta succedendo Non sto capendo di niente Allora Non farmi nervosire Sai Ti Mamma mia Non sai cosa ti faccio Non sai cosa devo fare Cioè Ma è scomparso Ma dove è andato Scusate Ma non è normale Sta cosa Ah Sono stufo io Vieni qua Invece che continuare A farlo stupido Ah ho capito Come funziona Ho capito tutto No non ti permettere Sai Non ti permettere Vengo io da te Ti faccio Mamma mia Ti sconfiggo Dove è finito Eh no Eh no E vuoi forse Distruggermi Ma no 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 Non te lo lascerò fare Affatto Dove sei finito Vieni immediatamente qua Che ti faccio In 3.000 pezzettini diversi Schifosone Vieni qua Vieni Forza Dove sei finito È morto Ah Prendi questo E mettete un emoji Della vittoria Mettete Un emoji Questa qua Mettete l'emoji Perché praticamente Dovete metterla Perché sto qua è morto E deve andare proprio A quel paese lì E comunque Siamo aperti di mente Quindi non Cioè va bene E ho trovato il dna Un dna Perfetto Perfettamente Ok bene Adesso Ok Adesso dobbiamo andare Da questa parte Giusto Giustamente Sì Quindi andiamo da Ah ok Praticamente devo trasformarmi In XLR8 Praticamente un alieno Super figo Boom Adesso vado Velocemente Guardate che velocità Vrr Eh sì Lui corre proprio così Eh No Adesso c'è Kevin Quel pazzo Sincopato Praticamente lui cosa Ha fatto È una ship Praticamente ha fatto cose Con Zombozo Quel ciccione di prima Avete presente Ovviamente Niente Contro le persone Che sono ciccione Ma lui è antipatico Quindi lo chiamo così Perché giustamente È praticamente Eh si è trasformato Vedete che è antipatico Adesso però ti faccio un tornado Porca miseria Ti Ti devasto l'esistenza Ma vieni qua Non posso Perché Allora Vieni qua Ti distruggo Sai Ti distruggo Vieni qua Ma Brum Che devo fare Eh lo sto distruggendo Però comunque Adesso però Se praticamente Gli corro intorno Gli creo un tornado Giusto Non è vero mai nella vita Però Sì Praticamente funziona Così No Ok Praticamente io faccio così Bam 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 Non sta capendo niente Sto qua gli sto facendo Il seder in Il seder on Boom Capito Proprio boom Vieni qua Che ti faccio Mamma mia L'ho distrutto In 3000 pezzi Sono stato fighissimo Ok Prendo quest'altro DNA Che è ottimo E pratica Adesso Adesso te la vedi Col nonno Adesso ti fa vedere Lui Te lo fa vedere Lui Il nonno È il peggiore Di tutti Altro che Zomboso O te Cioè Te lo fa vedere Lui Ti sei comportato Male Adesso sai Cosa ti faccio Non si può Nemmeno dire Oh raga Mi sta piacendo Troppo fare la storia Di sti qua Cioè È top Ma praticamente Cosa devo fare Devo Trasformarmi In un altro alieno A quanto ho capito Giusto In questo qua Ok perfetto Adesso boom Sono trasformato Mi sono trasformato In un ratto Ok Va bene Adesso sono un ratto Praticamente un ratto Che corre così Molto bene E Quanti minuti siamo Siamo Circa 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 l'ora Ma dove devo andare Da questa parte Da questa parte Adesso faremo L'ultima lotta Sarà quella decisiva Poi nel caso Se volete La continuiamo Chiaramente la storia Che è avvincente No secondo me Molto bella Perché poi bisogna capire Chi fa le cose brutte A chi Capite E questa poi Alla fine È la cosa che conta E poi dopo tutto Noi siamo Aperti di mente In una maniera assurda Quindi a noi queste cose Ci vanno Bene E ricordatevi sempre Di restare Aperti di mente Mi raccomando È importante Questo Perché noi Qui siamo Aperti di mente Ma devo andare Da questa parte Eh sì ho capito Però se Ok allora Ho capito Mi devo trasformare In XLR8 Prima Perché se no Ci metto mezz'ora Ad arrivare Quindi prima Mi trasformo in XLR8 E poi Dopo Solo dopo Mi trasformo Nell'altro Se no Qua ci mettiamo mezz'ora Quindi È da questa parte Che devo andare Giusto No perché Se vado tipo più Ok Era da questa parte Circa Diciamo da questa parte Vediamo un attimo Se sto capendo bene Oppure no Sì giusto 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 Via 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 Verocemente Ma che figata Comunque Ragazzi Cioè ho sempre Sognato di essere Benten Infatti adesso Posso esserlo Ok non sono proprio Benten Sono la L'aiutante Della persona Che ha creato L'orologio Praticamente Che praticamente È totalmente Innamorata Di quella persona Lì Giustamente Per non farci Mancare niente Scusate ma io Devo attraversare Tutta la città No perché Non è normale Cioè seriamente Ma io da mezz'ora Che sto camminando Cioè meno male Che abbiamo XLR8 Se no qua Eravamo finiti Cioè Qua eravamo Non lo so A berci il caffè Probabilmente A bere La marmellata Ricordatevi sempre Di mettere le mani Nella marmellata Non letteralmente Però mi raccomando Cioè non letteralmente E se non avete capito Cosa intendo Pensateci Magari potrebbe Venirvi qualche idea In mente Ma scusate Qua Veramente Non sto capendo bene Cosa Dove Dove Io devo andare Cioè perché È da mezz'ora Che sto camminando Dovrei In un qualche modo Fare Comunque Noto con piacere Sono sarcastico Ma noto con piacere Che sto parlando Totalmente male Dennis Dato che io Sgrido i miei amici Che quando parlano male Perché giustamente Voglio che voi Abbiate la migliore L'esperienza possibile Allora devo sgridere Anche me Perché sto parlando Totalmente male Infatti adesso Cerco di parlare bene E infatti Già adesso Sono migliorato Adesso Guardate qua Che figata Che c'è Praticamente Si deve andare Da questa parte E si ho capito Ancora devo camminare Però quanto Mannaggia La mannaggia Si ho capito Ma sto video È in giro Per la città Ho capito che Allora Mi sa che arriveremo Solo al boss Perché secondo me Qua non ci riusciamo Affatto a fare L'altro boss Non abbiamo il tempo Necessario Però secondo me È anche figo Andare in giro Perché ti fa capire La vastità del mondo Caspita ho detto Non lo so nemmeno io Però fidatevi Che è intuitiva Come c'è Ovvio no Sì sì Come Cioè non lo sapevate Io È ovvio Sto scherzando Chiaramente Non è ovvio affatto Non è niente ovvio In questo mondo Crudele Ovviamente dico su minecraft Il mondo è bellissimo Oh Basta Quanto No seriamente Ma sto camminando da mezz'ora Ma non è normale Sta roba Cioè Eh Dice Aha Dovresti provare A A planare Ma che cazzo Ti sta dicendo Ma quando mai Dovrei provare a planare Cioè cosa sta dicendo Oh Il tuo Vai a quel paese Adesso Uso il mio tornadone Non posso Ok non posso Praticamente mi dice Che ha scoperto Che c'erano delle torre E non ho letto Beh Non più Praticamente Distruggerò Tutto Mi ha detto E io dico Ok va bene Distruggi tutto Però comunque Tu sei fuori di testa Cioè caro mio Fatelo dire un attimo Anzi sai cosa faccio adesso Probabilmente Utilizzerò il tornado Per andare là sopra Perché cioè Modestamente Io posso Vum Non va Vabbè Ci penseremo nel prossimo video Come tornare Come andare là sopra Intanto ragazzi Ricordatevi sempre di stare Aperti di mente Lasciate like Iscrivetevi al canale E commentate Con il segno Che vi ho detto prima Il segno medio Perché così Mandiamo a quel paese Quel zomboso Cattivo Che ci ha distrutto